Creatività a tutti i livelli La novità di quest'anno, colori per seta per creare e realizzare accessori per il nostro abbigliamento per arricchire la borsa piuttosto che il gioiello per rendere tutto molto più leggero e soprattutto molto colorato I 35 colori a disposizione ci permettono con le diverse tecniche di realizzare facili e semplici colorati pulare ma anche capolavori in pittura Tutto a vostra disposizione, grazie anche al medium piuttosto che alle putte colorate Tutto per creare su seta